Da piazza a Sant'Agostino dove la baby gang in più occasioni aveva seminato il panico tra i giovani dando sfogo alla violenza ai social network, così il cantante trap ritenuto dagli inquirenti il capo della famiglia Montana con chiaro riferimento al criminale di Scarface continua a collegarsi con giovani e giovanissimi tramite dirette Instagram. Era stato lui il primo a finire manetti lo scorso marzo, scarcerato poi ad aprile attualmente si trova ai domiciliari. Nel provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Arezzo non vi è però alcuna limitazione relativa alla comunicazione. Il giovane quindi può telefonare, chattare e connettersi ad internet. Nei giorni scorsi anche un altro dei componenti della banda era stato scarcerato. Di fronte al giudice del Tribunale per i minori aveva ammesso molti degli episodi contestati e si era detto pentito. Aveva chiesto ed ottenuto poi l'applicazione della misura dei domiciliari per poter concludere l'anno scolastico. I social network erano diventati per la banda un luogo d'incontro molto utilizzato, poi attenzionato anche dalla stessa polizia. Proprio dai sociali che inquirenti avevano acquisito immagini di pistole, armi ma anche post con frasi contro le forze dell'ordine. A conclusione dell'indagine erano scattate nove misure cautelari, sei in carcere e tre in comunità. Le accuse per i giovanissimi, tutti tra i 16 e i 17 anni, vanno dall'Associazione per delinquere alla rapina, dalle lesioni allo spaccio.